Il Papa e altri vertici del Vaticano accusati di crimini contro l'umanità. L'iniziativa è stata presa da due associazioni statunitensi che da tempo contestano la Chiesa per gli scandali dei preti pedofili e degli abusi sessuali su minorenni. Hanno consegnato una denuncia corredata da 20.000 pagine di documenti al Tribunale Penale Internazionale dell'AIA. È molto chiaro, se tutti siamo uguali e la legge deve essere applicata allo stesso modo, si tratta di crimini contro l'umanità per i quali i dirigenti della Chiesa Cattolica debbono essere ritenuti responsabili. Nella denuncia vengono citati Papa Benedetto XVI, in quanto ex capo della Congregazione per la Dottrina della Fede, l'attuale responsabile cardinale William Levada, il segretario di Stato Tarcisio Bertone e il suo predecessore Angelo Sodano. Per ragioni di giurisdizione, difficilmente il TPI, che non è riconosciuto né dagli Stati Uniti né dal Vaticano, potrà dare seguito alla denuncia, ma intanto il colpo mediatico è assicurato.